Ciao, sono Max Volpi e sono il fondatore del sito ifioridibach.com, nonché l'ideatore della floriterapia transpersonale evolutiva e delle costellazioni floreali, due dinamiche di lavoro interiore che ti guideranno alle radici dell'inconscio. Oggi parliamo di fioridibach per chi punisce gli altri, quindi questa è una tematica che ci apre a diverse considerazioni, ti invito a seguirci. Ma prima di iniziare ricordati di iscriverti al nostro canale YouTube utilizzando il pulsante iscriviti che trovi qui sotto e dopo clicca sulla campanellina per ricevere ogni notifica relativa alla pubblicazione dei nostri video che avvengono ogni lunedì, mercoledì e venerdì. Fioridibach per chi punisce gli altri. Apriamo un discorso piuttosto ampio nel video di oggi perché ci sono diverse strutture che prendiamo in considerazione, però per scelta ho deciso di parlare solo di fiori oggi, o meglio, di fare qualche incursione nell'analisi transazionale, ma di parlare soprattutto di fiori. Quindi la prima persona che vediamo è la persona vine, quindi che risponde al fiore della vite. La persona vine è una persona forte, capace, consapevole delle proprie qualità, che tende a utilizzare, tra virgolette, gli altri per gli scopi del proprio potere. Quindi utilizza gli altri come se fossero dei burattini, dei servi che può mettere, posizionare lungo la scacchiera per ottenere i risultati che vuole. La persona vine fondamentalmente con questo atteggiamento tende a tenere il cuore chiuso. Tenendo il cuore chiuso entra nel giudizio, quindi è molto molto facile che scivoli nel fiore vicino che è beach, quindi nel giudizio, nella critica dell'altro. Anche se la tendenza principale non sarebbe quella di punire, se questo atteggiamento si sviluppa in maniera negativa, quindi si espande in maniera negativa, la persona si allontana sempre più dal core, quindi dal nucleo, dal cuore, e tende appunto, è proprio il classico non leader, è proprio il classico generale, quindi che utilizza la forza per dirigere gli altri addirittura schernendoli e quindi svalutandoli fondamentalmente. Questa situazione, al di là ovviamente dell'ambito militare di cui abbiamo parlato per spiegare, è molto visibile nell'ambito familiare. Quando troviamo persone va in beach, troviamo persone che valutano loro stesse molto molto importanti, quindi molto capaci e tutti gli altri in maniera negativa. Ecco perché ti dicevo che parliamo proprio di sfuggita oggi di analisi transazionale. Quindi questa persona utilizza l'ottica io più, tu meno, io valgo, tu no. Un'altra persona invece che punisce gli altri è la persona passivo-aggressiva. Chi è la persona passivo-aggressiva? È la persona che ufficialmente è una persona passiva, quindi non si adopera, non si mette in gioco, rifiuta gli incarichi. Se li fa, li fa male per evitare di assumersi la responsabilità. ma in realtà proprio perché non adempie ai compiti che gli vengono assegnati, le vengono assegnati, oppure se fa le cose le fa male, è aggressiva. Cioè la sua aggressività la sfoga in maniera passiva. Per questo passivo-aggressivo. La persona passivo-aggressiva fondamentalmente è una persona che non riesce ad assumersi la responsabilità della propria vita. La situiamo all'interno dell'analisi transazionale con io meno, tu più, cioè io valgo meno di te. E i fiori che possiamo andare ad utilizzare sono il binomio Cicori-Centauri, di cui ho parlato in un articolo sul blog e quindi ti invito ad andare a vedere sul blog, andare a leggere sul blog l'articolo. Trovi il link qui sotto in descrizione. a cui aggiungiamo holly perché ha della rabbia nascosta molto molto importante e di contorno a questi c'è anche un cherry plum che, come dico sempre, è il fiore che ci aiuta a gestire, ad armonizzare tutti quegli aspetti inconsci che ci provocano tensioni che non riusciamo a fare uscire. Quindi quattro fiori per questa struttura caratteriale, diciamo, dove sta la punizione all'interno di questa struttura? Che non assumendosi le proprie responsabilità, quindi non partecipando attivamente alla vita, la persona passivo-aggressiva rimane in questa dipendenza e questa dipendenza è la punizione per gli altri. Spesso il carattere passivo-aggressivo emerge come conflitto verso i genitori. Quindi la persona dice io non mi rendo indipendente così ti punisco, ok? Un'altra struttura caratteriale a dispetto delle apparenze è lo spaurito mimulus, quindi la persona evitante fondamentalmente che pensa di essere sempre osservata dagli altri, giudicata dagli altri, al centro della loro attenzione, che continua a chiedersi se ha sbagliato, se ha fatto bene, se poteva fare meglio, in fondo per difendersi da questa percezione continua di disvalore può scivolare anche lei, come già ha fatto Vine, all'interno della struttura del territorio di Beach e quindi può mettersi su un piedistallo a sua volta. Perché? Perché è difficile reggere continuamente la percezione del proprio disvalore e io non posso andare in giro 24 ore al giorno pensando che valgo meno degli altri. A un certo punto devo trovare una struttura compensativa che mi permetta di sopravvivere, ok? Infatti c'è una cosa importante che Bach ha sempre detto di mimulus, che mimulus è venuto a sviluppare la compassione. Cosa vuol dire compassione? Vuol dire patire insieme, compatire. Compatire non vuol dire poverino quanto sei stupido, poverino quanto sei inutile, poverino quanto sei scemo. Compatire vuol dire proprio patire insieme all'altro. Quindi lo sviluppo dell'empatia fondamentalmente sarebbe la caratteristica fondamentale che una persona piena di paure come mimulus dovrebbe sviluppare. E invece che cosa fa? Si estranea dal mondo mettendosi su un piedistallo e iniziando a sua volta a giudicare quelli che l'hanno giudicato. Per sciogliere questa dinamica appunto questi fiori sono molto utili. Mimulus, larch e bici. Ed è proprio qui che sta la questione della punizione dell'altro, no? Perché se io non sono mai in empatia con l'altro ma sviluppo giudizio nei suoi confronti, allora chiaramente in qualche modo lo sto punendo. Lo sto punendo perché non entro nella relazione reale con l'altro ma sempre e comunque sono nel dilemma, nel dubbio, nella dualità o sono giudicato o ti giudico. E quindi un'altra persona, un'altra struttura di personalità che giudicando punisce gli altri è proprio quella che non ci aspetteremo mai che è quella di Mimulus. Se vuoi approfondire i fiori di bacche e ricevere tutti i contenuti gratuiti riservati ai nostri iscritti, oltre a un ebook da scaricare di 140 pagine sui fiori, clicca il link che trovi qui sotto nelle note. Grazie, ciao!